ora giochiamo al giocogliere iniziamo con l'utilizzo di una sola pallina poi magari più avanti ne avrai bisogno di due o tre decidi tu la grandezza se è un po più grande e morbida riesci a schiacciarla e utilizzarla meglio con la mano se no se non fai fatica puoi utilizzarla anche un pochino più piccola e rigida l'obiettivo è quello di andare a migliorare la capacità di coordinazione tra i due arti soprattutto quella delle mani iniziamo con una pallina inizio lancio e prendo con la stessa mano lancio e prendo con la stessa mano proprio così faccio qualche lancio in questo modo poi dopo un cambio anche le mani lancio e prendo lancio e prendo devo riuscire a farla con tutte e due le mani quando mi sento sicuro provo a lancio e prendo con l'altra mano lancio e prendo lancio prendo ok ora proviamo con due palline iniziamo sempre lancio e prendo con una mano vado subito con l'altra lancio e prendo lancio e prendo lancio prendo prova fai qualche lancio così da solo ok ora proviamo un pochino più difficile devi scambiare le due palline lancio scambio e prendo lancio scambio e prendo vediamo un po' ci riesci se sei bravo con due palline puoi provare anche con tre ricorda che devi lanciare e prendere sempre con tutte e due le mani